dire che è arrivato il momento di prendere la bici per portarla sui rulli ma prima facciamo finalmente il lavoro che avevo promesso di fare ovvero montiamo l'accessorio di cover stem sul manubrio della mia gianta ok il lavoro è semplice però ho fatto con cura anche perché si va a toccare lo sterzo quindi quello che sono le forze per stringere e svitare facciamolo con delicatezza prima che si smonta la bici mentre sta andando ricordiamoci sempre di fare il lavoro con chiavi dinamometriche perché è un attimo stringere troppo poco e far venire tutto fuori mentre si sta andando in bici e direi che non è il massimo ok una volta tolta le viti e tolta la vita che si tiene serrata la serie sterzo un lavoro molto semplice si prende direttamente l'accessorio e va inserito all'interno della pipa manubrio e soprattutto una volta rimessa dentro la pipa in posizione corretta assicuratevi di metterla perfettamente dritta quindi guardate che sia giusta con la forcella prima di andare in giro con la ruota storta che non è il massimo ok rimettiamo il mio spessorino qua sopra e la vite della serie sterzo mettiamo le vite sul laterale e ci siamo e dopo aver serrato tutte le viti con la nitrometrica direi che la bici è perfetta grazie a tutti